Tempo di avvento, tempo di lettura di Isaia, nell'ufficio delle letture per chi lo fa. È molto interessante ma molto colpito quest'anno vedere che Israele, che ha paura, ha paura di chi? Ha paura di Israele, cioè perché all'epoca, l'ottavo secolo, c'erano due regni di Israele, uno di Giuda al sud, uno con Gerusalemme e l'altro di Israele, Samaria. Allora Giuda, Gerusalemme, ha paura del re di Samaria, cioè del re di Israele e del re di Damasco. Ma Isaia gli dice Non temete ciò che esso Israele teme e non abbiate paura. Il Signore degli eserciti, Lui solo, ritenete santo, Egli sia l'oggetto del vostro timore, della vostra paura. Perché mi ha colpito? Perché siamo stati abituati noi del cammino a vedere concretamente, in questo caso per esempio, chi sono per me, Romelia, il figlio di Romelia, cioè il regno di Israele e Damasco. Chi sono? Perché qua Dio dice che se io ho paura di questi due, beh, sarò devastata dagli Asiri, che mi spianeranno completamente. Resterà solo un piccolo resto di me, di tutto quello che conosco. E quindi è un invito, ho paura io di che cosa? Che cosa mi terrorizza? L'unica vittoria che posso avere è quella che passa per la croce di Cristo, che è la risurrezione, cioè il Signore degli eserciti ha combattuto e vinto per me. Devo riconoscere quali sono i miei nemici veri, i miei nemici veri non sono la vecchiaia, la sofferenza, la solitudine, l'ingiustizia, questo dico per me, per quelli più giovani sono altri i nemici ovviamente. Il nemico vero è che io mi allontani dall'alleanza col Signore degli eserciti, perché è l'unico che vince. Questa è la buona notizia dell'avvento. Buon avvento.